Signor Prefetto, un momento importante in cui si commemora quello che il lavoro si celebra, il lavoro dell'Arma dei Carabinieri, un lavoro costante e di supporto a quello che è il lavoro delle istituzioni in tutte le sue forme e ovviamente al Governo. Sì, l'Arma dei Carabinieri va sempre celebrata con tanto entusiasmo, perché non solo è un presidio di sicurezza, non solo è un presidio di legalità, ma io direi anche che è una tradizione positiva, una tradizione storica, una tradizione a cui tutti gli italiani devono essere grati. Una location d'eccezione e così anche a Lecce si festeggia la 209esima edizione della festa dell'Arma dei Carabinieri. La cosa più bella ed emozionante di questa festa è proprio poter celebrare il 209esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri in Piazza Duomo, che è il cuore della città di Lecce insieme a tutta la comunità, perché la comunità in fin dei conti è il senso del nostro lavoro, costruito dall'Arma dei Carabinieri con anni e anni e anni di sacrificio da parte di militari che soprattutto attraverso le stazioni che costituiscono l'ossatura della nostra istituzione hanno saputo guadagnarsi la stima e l'affetto delle comunità loro affidate. È un momento di incontro per celebrare questi uomini, l'Arma dei Carabinieri, che sono un vaido supporto a quello che è il sistema giustizia. È una giornata la quale qui a Lecce, come in tutta Italia, i cittadini esprimono la loro gratitudine. Noi che rappresentiamo le istituzioni una gratitudine ancora più consapevole del contributo che l'Arma dei Carabinieri dà all'affermazione dei principi di legalità concreta. È un momento in cui le istituzioni e la comunità si raccoglie per riconoscere il valore, il grande servizio alle istituzioni dell'Arma dei Carabinieri.